dei migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, nonché per prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Entro il mese di ottobre la questione inoltre sarà oggetto di intesa in sede di conferenze unificate. La ringrazio. L'onorevole Valente ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellante. Grazie, Presidente. Sottosegretario, evidentemente lei è andato completamente fuori tema. Perché noi mettiamo avanti l'etica e i valori culturali dello sport. Lei ha parlato di tutt'altro. Tant'è che ormai prendiamo atto che il Governo non ha minimamente intenzione di intervenire sulle sponsorizzazioni e sulla pubblicità indiretta che riguarda il gioco d'azzardo patologico e non la ludopatia, come lei ha detto. Evidentemente il Governo non ha capito il fenomeno sociale che sta mandando avanti. E allora io proverò a spiegarvelo. Proverò a dirvi cosa comporta tutto questo sistema. Il calcio, come tantissimi altri sport, è sempre di più un fenomeno in grado di influenzare la nostra società e in alcuni casi di anticipare trasformazioni sociali. Numerosi studi, infatti, hanno rimarcato il ruolo incisivo dello sport nell'apprendimento dei valori, attitudini e ruoli culturali. Questa facilità di trasmettere messaggi ai cittadini è stata amplificata in maniera gigantesca negli anni 90 dall'avvento della pay tv nel mondo calcistico. È allargato a disminusura il numero di spettatori, delle platee enormi. Il calcio globalizzato è diventato un mezzo potentissimo con cui le multinazionali sponsorizzano i loro prodotti e cercano di conquistare nuovi mercati. Ormai, ahimè, ci siamo abituati a vedere le nostre squadre di club italiani con sponsor di note compagnie aeree arabe o case automobilistiche americane. Ecco, una normalità che spesso oscura i tantissimi valori che lo sport dovrebbe trasmettere, soprattutto ai più giovani. Proprio quest'ultimi sono i soggetti più esposti e influenzabili dai messaggi negativi che a volte vengono trasmessi dal mondo del calcio. Pensiamo agli scandali del calcio scommesse o a comportamenti scorretti di alcuni giocatori. Ecco, i nostri ragazzi, i nostri bambini tendono a cercare punti di riferimento nei calciatori più famosi, più bravi, più appariscenti, imitandone gesti, mode e comportamenti. Ecco, ora vi ho fatto comprendere questo fenomeno, l'ho fatto comprendere al Governo, ce l'avete ben presente il sistema che ho appena descritto e siete in grado appunto di comprendere gli effetti che esso può avere su un soggetto in età evolutiva o adolescenziale. Vuol dire che davanti alla scelta della federazione gioco calcio di avere una partnership con Intralot, nota concessionaria del gioco d'azzardo, vi state tappando gli occhi. La nazionale di calcio sta pubblicizzando il gioco d'azzardo e lo Stato si gira dall'altra parte. E non accetto la scusa di dire che la federazione calcio è un ente di diritto privato, perché è lo Stato che dovrebbe tutelare i nostri giovani e prendere posizione su queste cose. Quindi è inaccettabile la risposta che state dando e che il sottosegretario lei ha dato e che qualcuno gli ha scritto. E la gravità sta nel fatto che non è una squadra di club a fare queste sponsorizzazioni, ma un'istituzione pubblica che rappresenta più di un milione e trecentomila tesserati in tutta Italia. Ma con che coraggio la federazione ha potuto consentire tutto questo? Con che faccia il presidente del CONI continua a parlare di valori sportivi ed educativi, quando poi non prende posizione e non dice una parola su queste sponsorizzazioni? Evidentemente sarà troppo impegnato a portare avanti la candidatura alle Olimpiadi di Roma 2024. Con che arroganza Renzi, colui che detiene la delega al sport, che non abbiamo mai visto qua in Parlamento parlare di sport, tranne quando è andato in America a guardarsi le partite di tennis o a trovare la nazionale di calcio durante un pranzo, tira in ballo i bambini sulla questione olimpica. I bambini vengono privati della possibilità di sognare quando sviluppando delle dipendenze e non quando si ritira una candidatura olimpica in un momento di crisi per il Paese. Così uccidete i sogni dei bambini. Arrivare a vestire la maglia della nazionale, che sia di calcio o di qualsiasi altro sport, è il sogno di ogni bambino. Sogno che si può realizzare soltanto con la consapevolezza dei propri mezzi, con sacrificio, con impegno, con disciplina e collaborazione con i propri compagni. Questi principi sono quelli che deve trasmettere lo sport e che possono essere applicati in tutti i campi della vita. Se invece fate passare il messaggio che nella vita basti scommettere per raggiungere un obiettivo, allora avremo future generazioni di consumatori e di dipendenti patologici. Questo per noi è inaccettabile e non smetteremo mai di contrastare queste vostre politiche vergognose. Non bastano la diffusione del dilagante delle slot, delle scommesse online, dei canali televisivi che mostrano sportivi, che giocano d'azzardo. Ora ci mettete anche voi, con la nazionale di calcio, a pubblicizzare questo sistema. È vergognoso. Un studio condotto nel 2011 ci dice che il gioco d'azzardo è un fenomeno in forte aumento, soprattutto tra gli adolescenti. L'Italia registra il 2,5% degli adolescenti con una vera e propria malattia del gioco. In tutta Italia il fenomeno interessa circa il 47% degli studenti delle superiori, quasi un ragazzo su due. Cosa state facendo per tutelarli e sensibilizzarli a non giocare? Nulla. E ora mi rivolgo al mondo del calcio. Il mondo del calcio professionistico è il primo che deve ragire e metterci la faccia. Mi rivolgo a tutti i calciatori, perché sono loro che insieme alle istituzioni hanno il potere di influenzare le scelte dei nostri giovani. Essere famosi e avere ricchi stipendi è una grandissima fortuna, ma è una grandissima responsabilità. Voi per primi avete la possibilità di mandare un messaggio forte a chi ogni domenica vi segue e ti fa per voi. Allora prendete una posizione chiara contro il gioco d'azzardo e sicuramente contribuirete a migliorare la nostra società. Fate come hanno già fatto Claudio Ranieri, Alessandro Altobelli, Emiliano Mondonico e Damiano Tommasi. E fatelo anche per alcuni vostri colleghi che sono caduti nel gioco d'azzardo patologico e che sicuramente non trovano in queste nuove sponsorizzazioni un aiuto per guarire. E mi rivolgo anche al capitano della nostra nazionale Gianluigi Buffon, perché lui prima di tutti dovrebbe prendere posizione. Presidente, io concludo dicendo che noi sogniamo un calcio libero dalle logiche del denaro, che metta davanti l'etica e che non scenda compromessi con chi lucra sulla pelle delle persone. Vogliamo che le nazionali diventino un veicolo di messaggi positivi, che educhino i ragazzi a stili di vita sani e che i calciatori siano ad esempio per tutti i nostri giovani. Per favore, chiudete, chiudete. La prego di interrompersi. Per favore, chiudete. Onorevole Baroni, la richiamo all'ordine. Onorevole Baroni, la richiamo all'ordine la seconda volta. Onorevole Baroni, la espello da Laura. Onorevole Baroni. Onorevole Mantero, la espello. Onorevole Mantero, chiudete. Avete finito di fare questa sceneggiata? Bene. Adesso uscite. Deve uscire. Onorevole Baroni, l'ho espulsa dall'Aula. I commessi per favore mi aiutino a far uscire Onorevole Baroni. Anche lei, Onorevole Mantero. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2, 1505 dei deputati Pesco ed altri, concernente chiarimenti in ordine allo svolgimento di ispezioni e revisioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nei confronti di società cooperative coinvolte in recenti inchieste giudiziarie. Chiedo all'Onorevole Pesco se intende allustrare la sua interpellanza o se si riserve intervenire in replica. Onorevole Pesco. Sì, Presidente, intendo intervenire. Grazie. Prego. Buongiorno. Attendo, Onorevole Pesco. Colleghi, dovete uscire dall'Aula. Grazie.